Tutto da rifare nel Partito Democratico pugliese per l'elezione del segretario regionale e di quelli provinciali. La Commissione Nazionale di Garanzia, con 5 voti contro 4, ha infatti accolto il ricorso presentato da alcuni iscritti, ma ispirato da 5 consiglieri regionali, tra cui Ruggero Menni e Paolo Campo, con il quale si evidenziavano delle irregolarità nelle procedure, mancata trasparenza del Congresso, blocco del tesseramento al 10 luglio e sottoscrizione di un numero di firme superiore al consentito per la presentazione della candidatura di La Carra. L'accoglimento è avvenuto un po' a sorpresa ed evidenzia motivazioni che hanno a che fare più con equilibri e scontri politici che non in punta di diritto. Per l'accoglimento Zingarettiani e Orlandiani, per respingerlo i Franceschignani contro hanno votato i due componenti pugliesi Loredana Capone e Fabrizio Ferrante. L'accoglimento del ricorso azzera la situazione e ora bisognerà ripartire dal tesseramento 2021 tutto da fare, visto che prima del ricorso ci si era avvalsi di quello del 2020. Le candidature dovranno essere ripresentate e magari gli oppositori del triunvirato Emiliano De Caro La Carra presenteranno le loro, visto che nella fase ora annullata La Carra era stato l'unico candidato a presentarsi e anche per le sei segreterie provinciali non in tutte i ricorrenti avevano presentato le loro proposte. La realtà è che i numeri non li avevano e difficilmente li avranno, anche se, dovendosi votare con un nuovo tesseramento, è facile immaginare un maggiore sforzo da parte di tutti.